La sentenza della Cassazione Sessione Unite del 15 marzo 2016 ha stabilito che lo Stato italiano ha abusato per anni con la reiterazione dei contratti a tempo determinato a decine di migliaia di precari. Questa importante sentenza, dopo quella della Corte di Giustizia europea, risolve in modo definitivo il problema degli insegnanti precari della scuola? Lo abbiamo chiesto all'Avvocato Tommaso De Grandisi, responsabile dell'ufficio legale della GILD. La sentenza 5072-2016 delle Sessione Unite della Corte di Cassazione non risolverà il problema del precariato pubblico. È una sentenza che comunque lascia da parte il precariato pubblico scolastico, rimandando a quello che verrà deciso a maggio dalla Corte Costituzionale. però pone certamente dei paletti alla conversione dei contratti a termine. Sulla premessa della necessità di un concorso pubblico e aperto a tutti in forza dell'articolo 97 della Costituzione, nessuna distinzione fra regime pubblico e regime privato in termini di conversione dei contratti a termine abusivamente adottati dal datore di lavoro o dallo stato datore di lavoro. Qual è il punto a cui poi approda la Cassazione? Applica un risarcimento del danno pari a una misura minima e massima che va da 2,5 mensilità a 12 mensilità a favore del datore di lavoro che ha l'unica agevolazione di non dover provare il danno, avendo assunto la Corte di Cassazione una misura adeguatrice parametrata al diritto dell'Unione in forza della quale il datore di lavoro è esonerato nel caso concreto dall'onere probatorio. Qual è il punto e quali sono, a modesto avviso, di chi ha riflettuto su questa questione i punti deboli della vicenda? Il primo legato a un concorso pubblico aperto a tutti ma che in realtà poi aperto a tutti non lo è stato, visto che il concorso poi bandito dall'amministrazione è stato un concorso riservato ai soli abilitati. È il fatto successivamente che venga richiamata una norma, l'articolo 32 della legge 183 2010 che è stata abrogata dal Decreto Legislativo 81 2015, cosiddetto Jobs Act 2. A questo punto si riaprono i giochi purtroppo sulla questione del precariato che dovrà necessariamente avere per quanto riguarda le cause in corso o almeno una richiesta pregiudiziale comunitaria alla Corte di Giustizia. Considerato che non si ritiene che una misura di 2,5 mensilità, anche se fossero 12, sia una misura dissuasiva, una misura energica, una misura equitativa che in qualche modo possa dissuadere lo Stato alla reiterazione del contratto a termine. È un'eventuale iniziativa anche verso la Corte Europea dei diritti dell'uomo, considerato che la Corte di Cassazione e la Sezione Unita è una decisione definitiva che avrebbe e dovrebbe porre la parola fine su interpretazioni riguardanti il precariato, ma che certamente non dissuaderanno lo Stato italiano alla reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego e nella scuola in particolare.